Vedersi qui, può partire l'infosera di campo, Rimini torna in Serie A2 dopo più di 10 anni, tutti dentro il campo a festeggiare, torna in Serie A2 Rimini, torna in Serie A2, stagione incredibile. Atmosfera Max, anche questa sera, caldissima, ci sarà un prossimo. Forse due o trecento persone in meno, ma credo pareggiate dal numero dei tifosi di Roseto, questa sera veramente tanti. E allora possiamo partire, Rimini vince la palla a due. Rimini, 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 Rimini e conosci, rimini, Rimini! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.